Il mio primo pensiero va alla neoeletta seconda carica dello Stato, il senatore Ignazio Larussa, siciliano come me, cui mi lega un profondo rapporto di grande stima ed amicizia. Abbiamo svolto in contemporanea ruoli politici ma anche ruoli istituzionali, quando ero presidente del Senato lui ministro della difesa. Oggi è un momento particolare tra l'altro per la Sicilia perché in effetti si insediano il sottoscritto ma in contemporanea è un secondo presidente siciliano. Di questo credo che la Sicilia non possa che esserne orgogliosa.